Allora, la consuetudine del pomeriggio delle 17-17.30, siamo con l'amico qua che si vergogna, ma si vergogna, siamo a casa, ma va bene. E allora, birretta, non faccio vedere che tipo di birra è, però italiana. E allora, sempre con la grande preghiera di stare a casa, mi raccomando, soprattutto i vecetti, i pensionai, stai a casa, stai a casa, se stiamo a casa noi giovani che avremmo la voglia di andare in giro. Io capisco che vi manca andare a vedere i cantieri, andare a bere il taio, andare a cercare il giornale, andare a bere il caffettino, però magari, ecco, il giornale è aperto, tac, giornale, poi state subito a casa, non andare a vedere i negozi, eccetera, che è chiuso, le sciarate che è là, ma però, ecco, state a casa. Più stiamo a casa, prima usciamo. E potrebbe essere anche una consuetudine, ma proviamo a cominciare la stasera, nella, qui che siamo, vedete qua, c'è sempre Berto, la giù, vedi il cane, Berto, il cane esperto, Berto, eccolo là, facciamo questo, che la barzellettina, gira già su Facebook, ma io l'avevo già pensato prima, però c'è, attenzione, barzellettina veloce, via, c'è un tedesco, un francese e un inglese, tre tipi di merda, finita la barzelletta. Ciao, 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 une robe vergognosissime.